buongiorno allora per non spoilerare la casa come sempre perché non ho fatto il tour e perché la casa non è finita vi do una notizia ma credo che lo sapete già perché metto sul sul titolo nuovi arrivati in famiglia i nuovi gattini che ovviamente per adesso le teniamo noi ma poi ovviamente andranno diciamo il leader o a persone che conosco in poche parole tranne due che non so se tenerne due o uno ancora sono un po indecisa però vedrò niente ho fatto un bel po di clip da quando sono nati e da quando da adesso in poche parole loro fanno ormai questo video lo vedete quando fanno un mese per cui vi faccio vedere praticamente tutte le clip che ho fatto e anche ogni clip diversa una cosa spettacolare e niente sono nati questi cinque gattini dalla mia della mia perla perché io avevo sono rimasta che avevo registrato un blog dove dicevo almeno per chi sta attento su quello che dico nei blog dicevo e poi dopo vi dico una novità no alla fine dopo che è uscito questo blog appunto non lo sapevo che doveva partorire alla fine appunto ha partorito e ormai è passato quasi un mese per cui vi lascio vi faccio vedere tutte le clip registrate e niente dato che appunto martedì loro fanno un mese vi lascio anche l'ultimo clip di quando di quanto sono grandi video e buona visione così almeno scusate l'inquadratura ma a parte il sole che l'unica l'unica locale con il sole più o meno è la sala per cui dopo queste chiacchiere che poi sembro rossa ma in teoria non lo sono non so perché vi lascio le clip buona visione e questo sarà ovviamente un video speciale perché l'ho dedicato a loro per cui buona visione e ci vediamo al prossimo video ciao l'ho Grazie. 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 Sai che c'è anche la cortretta che se la mamma è in circo? Wow. Grazie. 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 C'è una cosa più che si può. No, non uscire! Poi dove parte dentro? È più caldo dentro! comunque quello bianco e nero abbiamo scoperto che è un maschio e invece uno di quelli tigrati che adesso non mi ricordo se quello con forse quello lì bianco con il muso bianco è femmina e gli altri te non lo fa mamma mia che è così bello ma sei piccolino stai dentro che ti fai ovviamente lei sta mangiando per cui loro fanno così perché doveva fare la latina guarda devi dargli il mattino forse riesco a fare la foto ma che fate la rotta io faccio cinquantemila foto uno per uno dovrebbe riuscire a venire bene mamma mia quanto sono belli sono irresistibili ciao ciao mamma ciao 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 ma si può avere avere una cosa così ma quanto sono belle mamma mia uno più bello dell'altro irresistibili non sto facendo niente sta guardando ho digerito hai dentini ne ha due hai dentini puoi fare un verso star mamma mia che maschietto che maschietto chissà che gli occhi come ce l'ha gli occhi budino mi sembra che c'è la verdi invece parla no parla verdi budino non mi ricorda l'occhio chissà se sentono secondo te sentono dovrebbero sentire no non vedono ma sentono perché se faccio così almeno sgranocchio un po' i piedi c'è le zampe guarda come sono piccoli piccoli minuscoli uno più bello dell'altro col pelo lungo gli altri due sono dietro non si vedono perché sono neri guarda si vede un astenino un accettino poco poco mamma mi fanno impazzire i bo i bo Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.